Musica con Marina Ciao bambini, ciao bambine, ciao a tutti quanti e bentornati a Musica con Marina. Oggi ho pensato che potremmo cantare una bellissima canzone con le farfalle che volano in cielo. E allora, vi va di venire con me? Che cosa ci serve per questa canzone? Ci serviranno i veli colorati, avete visto? E vi chiederete, ma perché ci servono i veli? Beh, perché li possiamo usare come le nostre belle ali. Guardate che bello! Sbattiamo le ali, io ho una bellissima ala gialla e una azzurra. Adesso tocca a voi andare a prendere le vostre ali. Allora, se siete grandi potete copiare me e volare intorno alla stanza, intorno al vostro giardino, al parco, insomma, dove vi piace di più. Se invece siete piccolini, allora i vostri genitori vi potranno prendere in braccio e aiutarvi a volare. Allora, adesso, prima di tutto, fatemi vedere bene come sbattete le vostre ali su e giù. Bravissimi! E poi a un certo punto la farfalla volerà giù nel prato, allora andiamo giù, 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 e poi su nel cielo. Su nel cielo, bravissimi! E alla fine la farfalla sarà un po' stanca di volare e allora troverà un bel fiorellino in giro e si riposerà un pochino. E allora anche voi, mi raccomando, guardatevi intorno e trovate un bel fiore dove riposarvi. Siete pronti? Andiamo! Sbatti le ali, bella farfalla, giù nel prato, su nel cielo. Come sono belli i tuoi colori, ora riposa su un fiorellino. Ah, che bello, bambini! Io ho trovato un bel girasole dove riposarmi. Ah, ma sapete che c'è? Io avrei voglia di volare ancora un po'. Venite con me? Dai, andiamo! Sbatti le ali, bella farfalla, giù nel prato, su nel cielo. Come sono belli i tuoi colori, ora riposa su un fiorellino. Adesso, bambini, io direi che è ora di tornare a casa. Vogliamo e torniamo a casa. Siete pronti? Un ultimo volo. Sbatti le ali, bella farfalla, giù nel prato, su nel cielo. Come sono belli i tuoi colori, ora riposa su un fiorellino. Buonanotte farfalle, adesso sì che potete fare un lungo, lungo riposo. Oh, bambini, spero che vi siate divertiti in questa avventura, eh? Il volo con le farfalle, io mi sono divertita tantissimo. Vi mando un abbraccio e ci vediamo per la prossima canzone. Ciao!